Metto in votazione l'ordine del giorno G9 presentato dal senatore Falanga ed altri. Chiede il voto elettronico il senatore Falanga. Vediamo se c'è l'appoggio. L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione elettronica. Dichiaro chiusa la votazione elettronica. Il Senato non approva. Si intendono pertanto approvate le conclusioni dell'aggiunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel senso di dichiarare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi proclamato nella Regione Molise per consentire all'aggiunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante autorizzo la stessa giunta a convocarsi.